Dopo l'arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro, avvenuto ieri nella periferia nord di Palermo alla clinica privata La Maddalena, non si è fermata l'attività investigativa dei Carabinieri delle Rosse, che coordinati dalla Procura di Palermo hanno continuato a indagare per fare ulteriormente luce sull'humus che ha favorito e accompagnato la latitanza della Primula Rossa di Cosa Nostra. Ieri sera, infatti, i militari delle Rosse e la Procura di Palermo hanno individuato il covo di Matteo Messina Denaro in un'abitazione a Campobello di Mazzara, in provincia di Trapani, residenza dell'autista Giovanni Luppino, finito in manette insieme al latitante. Il comune si trova a soli 8 chilometri da Castelvetrano, paese di origine di Messina Denaro e della sua famiglia. L'abitazione si troverebbe nel comune trapanese, in pieno centro abitato, in vicolo San Vito, rimasta disabitata dopo il trasferimento dei proprietari. La perquisizione del covo, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido, è durata tutta la notte. La struttura è stata perquisita e controllata nei minimi particolari, palmo a palmo, con la presenza dello stesso procuratore aggiunto Guido. Non sono state trovate armi, mentre c'erano molti abiti di lusso firmati, diversi profumi, anche questi di lusso, e un arredamento definito ricercato. Per la perquisizione sono al lavoro anche i risti dei carabinieri di Messina per capire se la casa fosse abitata da più persone. Intanto, sempre ieri a Campobello di Mazzara, Alfonso Tumbarello, il medico che risulta essere il dottore di medicina generale che aveva in cura Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, è stato convocato in caserma dai carabinieri per essere interrogato. È stato il medico trapanese a preparare la diagnosi per l'accesso, sotto falso nome, di Matteo Messina Denaro al reparto oncologico della clinica La Maddalena di Palermo, in seguito all'operazione che il latitante aveva subito nell'ospedale di Mazzara del Vallo. La procura vuole capire come il latitante è diventato un suo paziente e quando sono cominciati i loro rapporti. Anche in questo caso Messina Denaro avrebbe presentato la carta d'identità e la tessera sanitaria intestate ad Andrea Bonafede.